Io sono fermamente per Charlie Hebdo e sono fermamente per la libertà di espressione, di critica, di dibattito. Ognuno deve poter liberamente e democraticamente esprimere tutte le proprie idee proprio oggi a Parigi. Ci sarà questa grande manifestazione intorno al Presidente Hollande, intorno a tutti i francesi. Ci sarà l'Europa unita, anzi spero che ci sia davvero l'Europa unita e spero che davvero dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni a Parigi, ci sia una dimostrazione solida, totale, globale di unione contro chiunque in nome di un Dio che li ha già tutti condannati vorrebbe imporre il terrore nell'Europa e nel mondo. Io sono per Charlie Hebdo, ovviamente. Grazie. 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 Grazie.